Questo video è stato realizzato grazie al programma EA Creator Network Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Jovi e oggi concludiamo la nostra miniserie dedicata a The Sims 4 Vita nel Ranch Come vedete dallo schermo, sole, è passata l'età, abbiamo finalmente un cavallo adulto Vi faccio vedere subito sullo schermo il passaggio d'età, da puledro a cavallo adulto Molto sfiziosa l'animazione, ecco qui sole Che dorme Adesso sta dormendo, è molto simile alla mamma, vedete? Ha anche le stesse macchine alla mamma, mi piace un sacco questa cosa Oggi magari andiamo avanti un po' con le sue abilità e partecipiamo alla prima competizione questre con sole Ma prima di iniziare a giocare volevo aggiornarvi su qualcosa che ho fatto mentre non registravo Perché mentre non registravo sono andato avanti con le abilità dei miei sim In questo episodio finale volevo massimizzare tutte le abilità dei sim Quindi con Drew sono quasi a livello 5 di preparazione di nettare, manca pochissimo E anche con Kelly sono quasi a livello 10 di equitazione Inoltre Holly ha portato avanti le sue abilità e manca pochissimo per arrivare a livello 10 di resistenza Volevo massimizzare anche un'abilità del cavallo, certo non riusciamo a massimizzarle tutte perché sono troppe Ci vuole troppo tempo ma una volevo massimizzarla Vi faccio vedere che ho partecipato anche ad altre competizioni equestri mentre non registravo Ho partecipato alla competizione di endurance equestre di livello esperto e magistrale E sono riuscito a vincere entrambe Quindi il valore di Holly è aumentato da tantissimo Vale quasi 10.000 simoleon E abbiamo anche questo tratto cavalla campionessa Una campionessa in tutto e per tutto I suoi puledri acquisiranno abilità e spirito combattivo più velocemente e il loro valore sarà maggiore Perfetto quindi questo era tutto quello che volevo mostrarvi oggi Vi faccio vedere anche che ho piantato la pianta dei rifiuti Quindi possiamo fare il nettare dei rifiuti oggi con Drew E va bene dai Aspettiamo che i nostri sim si sveglino Lui si è svegliato, perfetto Può andare in bagno e può mangiare Ci sono degli avanzi? Sì, perfetto Anche Kelly sta andando a prendere degli avanzi E adesso subito dopo la colazione cerchiamo di massimizzare tutte queste abilità Che ho quasi portato al massimo Devo dire che per quanto riguarda l'equitazione Andando avanti con i livelli non si sblocca moltissimo Si migliora il portamento del sim sul cavallo E si sbloccano alcune interazioni con gli altri sim ovviamente Quindi ci si può vantare delle proprie abilità eccetera eccetera Inoltre con le abilità dei cavalli cosa si sblocca andando avanti Ovviamente i cavalli sono più bravi nei salti, nelle corse, nelle cavalcate E poi possiamo fare delle interazioni particolari con i cavalli Abbiamo questa sezione abilità dei cavalli E qui abbiamo le quattro abilità con nuove interazioni Sbloccate sempre con i livelli delle abilità dei cavalli Semplicemente questo Quindi questo succede mandando avanti le abilità di un qualsiasi cavallo Allora vediamo un po' con loro a che punto stanno Ci siete? Avete mangiato? Ok Allora andiamo subito nello scantinato E cerchiamo di arrivare al livello 5 di preparazione di nettare Oggi dobbiamo anche andare a scoprire il segreto di Roberto Crinkle Top Non me lo sono dimenticato Allora produciamo il nettare dei rifiuti? Vai! Vieni qui Finisci di mangiare e vai a produrre il nettare dei rifiuti Manca pochissimo al livello 5 Che brutta questa mistura Certo è il frutto dei rifiuti Che ti aspettavi Certo non è molto invitante però questo colore Devo dire non è il massimo Drew ha appena ottenuto la sua prima bottiglia di nettare dei rifiuti E qual è l'effetto? Aiuta i sim a sentirsi felici Pur rendendoli un po' maleodoranti Ah va bene Buono a sapersi Facciamo altri nettari dei rifiuti? Vai! Facciamone altri Intanto dobbiamo ancora arrivare al livello 5 La abilità va avanti molto molto lentamente E Kelly ha raccolto delle tame di qualità straordinaria Ok ora vediamo com'è questo letame di qualità straordinaria Vediamo negli appunti Allora eccolo qui Interessante si vede che i miei cavalli sono felici Va bene dai continuiamo con il nettare Penso che riusciamo ad arrivare al livello 5 adesso vero? Ci siamo? Ecco qui Abilità massimizzata Drew ha raggiunto la maestria nella preparazione di nettare Con l'abilità appena acquisita Drew può produrre nettare della vitalità Come pure i propri nettari personalizzati alla frutta e di bacche Qualsiasi nettare prodotto da Drew impiegherà meno tempo a invecchiare del tutto Ok quindi abbiamo completato l'abilità di preparazione di nettare Come vedete ho un sacco di bottiglie nell'inventario Perché per arrivare a questo livello 5 ce ne è voluto eh Mamma mia è stato lentissimo il processo E vi faccio vedere che qui abbiamo anche le nostre prime bottiglie d'annata Ecco qui finalmente abbiamo le bottiglie d'annata E valgono un sacco di simoleon Guardate quanto valgono Tantissimo Mille simoleon Tutte mille simoleon Wow Magari portiamo qualcosa al nostro amico Roberto Crinkletop Sì dai portiamo qualcosa anche a lui Ce lo portiamo nell'inventario E va bene quindi abbiamo visto la preparazione di nettare Possiamo fare quelli nuovi Nettare alla frutta di bacche e di vitalità Quello di vitalità è particolarmente interessante Vediamo se riusciamo a fare tutti i tipi di nettare presenti Quindi facciamo quello alla frutta Quello con le bacche E poi magari prendiamolo al debug il fiore della morte Ma sì possiamo farlo Ecco qui il nettare alla frutta Il suo effetto è far sentire i sim felici Vedo che l'effetto è sempre lo stesso un po' per tutti i nettari eh Niente di particolare Abbiamo prodotto anche questo nettare di bacche Vediamo il suo effetto Penso sarà lo stesso Aiuta i simba a sentirsi felici Perfetto E adesso ci manca solamente il nettare di vitalità Ma magari lo vediamo alla fine? Ma no dai andiamo a vedere subito il debug Scriviamo bb.showhiddenobjects E adesso ci spuntano gli oggetti di debug In modalità costruisci Prendiamo un fiore della morte e uno spinaccio Eccolo qui il fiore della morte 1200 simoleon E poi ci serve anche uno spinaccio A questo punto ne approfitto anche per vedere se ci sono delle preparazioni di nettare particolari Nel debug di vita nel ranch Ecco lo spinaccio l'abbiamo preso Magari ne prendiamo un altro E vediamo un pochettino Vita nel ranch Vediamo il debug C'è qualcosa di particolare Che non abbiamo visto Abbiamo un sacco di calici di nettare Abbiamo la tomba di un cavallo Perfetto Abbiamo i premi per le competizioni equestri Come vedete i premi sono tutti questi Questi qui sono quelli per il campionato hippico supremo Che sicuramente non riusciremo a vedere in questo gameplay E poi ci sono tutti i vari tipi di nettare Abbiamo nettare di rifiuti Erbe della prateria Di valeriana Mmmmm Questo è interessante Qui parla di incantatori Forse c'è un legame anche con i game pack relativi alle creature soprannaturali Vediamo Vediamo se c'è altro Nettare di bacche Questi li conosciamo Nettare di plasma Questo è per i vampiri Sì Mi sa che con gli altri pack Poi ci sono nuove bottiglie di nettare Mi piace questa cosa Questa è l'ambrosia del petalo di luna Per i lupi mannari Quindi c'è un legame anche con altri pack Interessante Qui c'è il nettare di vitalità Va bene E c'è il dolcetto di cavalbrosia Dolcetto infuso di ambrosia Che può essere dato a un cavallo fantasma Per riportarlo in vita Questo si guadagna dalla grotta Del cavallo tenebroso Quella lì che abbiamo visto negli episodi precedenti E questo è il debug Ok quindi direi che abbiamo visto tutto Vieni qua e prepara il nettare di vitalità Questo nettare direi che è un bel colore Mi piace Vediamo un pochettino cosa ci dice il taccuino Ecco qui Il nettare della vitalità L'effetto Aiuti Simba a sentirsi felici Aumenta di poco la vitalità dei vivi E di molto quella dei defunti Ok quindi ha un effetto ringiovanente Oppure riporta in vita i fantasmi Perfetto Molto carino anche il nettare di vitalità Mettiamo qualcosa nella nostra cantinetta Va bene Quindi ecco qui tutte le bottiglie di nettare Le abbiamo viste tutte vero? Sì Abbiamo tutto quanto nel nostro taccuino Perfetto Ci mancano solamente quei tipi di nettare speciali Dedicati alle creature sovranaturali Ma ovviamente non possiamo vederli Senza quei pack E ci manca da scoprire cosa ha da dirci Roberto Crinkletop Spero ci sia anche una ricetta segreta Vedremo Oggi andremo a parlare con Roberto Crinkletop State tranquilli A questo punto torniamo da Kelly Dobbiamo completare anche con lei le abilità Quindi partecipiamo a una competizione a questo punto Facciamo la nostra competizione giornaliera E che cosa facciamo? Ci facciamo questa qui Magistrale Vediamo se riusciamo a prendere l'oro Proviamo dai Proviamo 1000 simoleon E abbiamo vinto l'oro Perfetto Era quello che volevo 3000 simoleon Wow Vediamo se riusciamo a fare una competizione anche con sole Nel frattempo svegliamo holly Come sta? Sta bene Quindi andiamo avanti con la nostra abilità di equitazione Forza Ci facciamo delle cavalcate Perché con le cavalcate Si porta avanti l'abilità di resistenza Che dobbiamo massimizzare Se vi ricordate Quindi vai a fare una cavalcata intensa Nel frattempo noi possiamo socializzare con sole Dai socializza un poco Ok Perfetto Lei è felice Qui c'è ancora del cibo di Bob Pancake No non è di Bob Pancake Però c'era del cibo lì sopra E raggiunto il livello 10 di resistenza con Holly Congratulazioni Gli esperti di cavalli vicini e lontani concordano Holly è un vero prodigio della resistenza Pochi cavalli hanno il suo fisico e sono altrettanto capaci di darsi il passo L'insegna scolpire nel segno resistenza E ora acquistabile nella modalità costruisci tramite la sezione decorazioni da muro Fanne bella mostra nel tuo ranch Penso sia una di queste insegne per le insegne da ranch Sì vediamo Vediamo in modalità costruisci Sì sì eccole qui Come vedete abbiamo queste insegne se arriviamo a livello 10 di agilità Di salto Di temperamento Di equitazione E poi noi abbiamo sbloccato Questa qui Insegna scolpire nel segno resistenza Perfetto Quindi ci sono tutte queste insegne da sbloccare Vi faccio vedere che comunque ci sono anche le insegne relative alle mucche Ai lama Alle piante mucca Ai polli Insomma c'è un legame profondo con l'espansione di vita in campagna Si nota anche da questo E va bene adesso aspettiamo di arrivare al livello 10 di equitazione E nel frattempo ci facciamo una competizione con sole Dai proviamo Sole non ha particolari abilità Quindi proviamo questa Prova di portamento Visto che ha almeno l'abilità di temperamento Proviamo questa E Kelly eccola qui E' quasi al livello 10 di equitazione Manca poco Nel frattempo medaglia di bronzo per sole Mi fa piacere Così finalmente anche lei ha partecipato a una competizione Ed ecco le sue abilità Abbiamo temperamento Agilità Salto e resistenza Non abbiamo portato molto avanti le sue abilità Ma va bene così L'abbiamo vista con Ollie Vediamo un poco quanto ci mettiamo ad arrivare al livello 10 di equitazione E quasi quasi Visto che oggi è lunedì In teoria Roberto Crinkle Top spunta lunedì, mercoledì, venerdì e domenica Nello scenario Vediamo un poco Vediamo se ha ragione Allora quando spunta? Roberto Crinkle Top spunta lunedì, mercoledì e venerdì per qualche ora intorno a mezzogiorno Ah quindi è troppo tardi Ok quindi dobbiamo aspettare mercoledì per Roberto Crinkle Top Allora dai Cerchiamo di finire con l'equitazione e poi aspettiamo che si faccia mercoledì Allora vieni qui È un po' triste Ollie Ma sta bene per quanto riguarda i bisogni Quindi facciamo una cosa Vieni di nuovo Monta su Continuano le interazioni di Micheo e Ollie tra loro due comunque Si vede che sono Due cavalli molto molto legati tra loro E dai Facciamoci quest'ultima cavalcata Forza Ollie Credo in te Allora vai a fare una cavalcata intensa Eeeh 100% Ecco qui Dovremmo esserci Abilità massimizzata Kelly ha padroneggiato l'abilità di equitazione Certo adesso si deve fermare perché non ce la fa più con la vescica Mi dispiace Kelly però mi interessava di più l'abilità Raggiunto il livello 10 di equitazione Congratulazioni Kelly ha padroneggiato l'arte dell'equitazione Nell'inventario abbiamo un'altra insegna Fanne bella mostra nel tuo range Perfetto Abbiamo completato anche questa abilità Quindi abbiamo visto le due abilità legate ai sim Abbiamo massimizzato anche un'abilità Del cavallo Quindi massimizzando le abilità si sbloccano le insegne Nella modalità costruisci E' una cosa piuttosto carina dai ci può stare Adesso torniamo a casa Che lei è stanchissima Anche Ollie sicuramente stanca Dobbiamo sistemare i bisogni della nostra sim Poverina Facciamoci una doccia E poi puoi andare a dormire A questo punto cosa ci manca da vedere? Ci manca da vedere semplicemente il segreto di Roberto Crinkletop Volevo farvi vedere anche l'ultimo locale di New Appalusa che ci manca Ovvero il bar Però ne approfittiamo Vediamo Roberto Crinkletop e vediamo anche il bar allo stesso tempo Quindi a questo punto aspettiamo che in gioco si faccia mercoledì Eccoci qui sono le 7 di mercoledì Quindi siamo pronti per andare a trovare Roberto Crinkletop I miei sim stanno bene Hanno i bisogni a posto Perfetto Anche i cavalli credo stiano abbastanza bene Lei forse ha bisogno di socialità Prendiamo questo letame Perfetto E a questo punto facciamo un'altra cosa Prima di andare da Roberto Crinkletop Partecipiamo a delle competizioni Facciamo le ultime Niente non me le fa fare Considera come se io le avessi già fatte in questo giorno Ma ovviamente sono le 7 del mattino Quindi non posso aver già fatto delle competizioni Vorrei chiudere la serie con il completamento di questo passo Competi in 15 competizioni equestri Ora ci riusciamo a fare due competizioni Anche perché abbiamo due cavalli Quindi dovremmo riuscirci Vabbè dai Poi ci torniamo a fare delle competizioni il giorno dopo Intanto andiamo a New Appalusa E andiamo dal nostro Roberto Crinkletop Quindi cominciamo a viaggiare Lo scenario l'abbiamo esplorato abbondantemente Abbiamo visto la valle dei cavalieri Ovviamente abbiamo visto la gola galoppante Con la caverna del cavallo tenebroso Oggi non ci torneremo Perché poi il gameplay l'abbiamo già visto abbondantemente E poi qui c'è New Appalusa L'unico lotto che ci rimane da vedere comunitario È questo qui Il barile di quercia Quindi andiamo qui Ed eccoci al barile di quercia Questo lotto è bellissimo Non so chi l'abbia costruito Ma è bellissimo Guardate qua Che lavorone Mi piace un sacco Bellissimo Volevo mostrarvelo Qui abbiamo il piano superiore Con varie zone relax Ovviamente con un sacco di botti per il vino Un sacco di cassette E poi giù abbiamo il bar Con un sacco di tavolini Veramente bello questo bar E allora vediamo se spunta Roberto Crinkle Top È ancora presto eh Magari prendiamo qualcosa Già sta andando vedo È già andato al bar Possiamo prendere delle patatine Vai prendi delle patatine E mentre aspettiamo Beviamo anche una bottiglia di nettare dannata Vediamo un pochettino Cosa succede Bevi Sono curioso di vedere gli effetti Di una bottiglia dannata Qualcuno ci chiama Ok Perfetto Sta bevendo dalla bottiglia Non gli piace Ha qualità scadente Anche se è dannata È scadente Giustamente Però vale 1100 simoleon Dai Qua dice 5 simoleon Veramente Ah ok Possiamo non berlo più Lo mettiamo nell'inventario Beviamo questo qui Nettare di mele Questo è più buono Ecco Questo ce lo rimettiamo Nell'inventario Bevi questo Questo è qualità normale Anche se nell'inventario Mi dice 1000 simoleon Quando tiro fuori la bottiglia 5 Ok va bene Se lo dici tu Effetto ispirato Ebbrezza La nettare piacevole Nel frattempo Aspettiamo Roberto Uh mi sa che è spuntato Se hai intenzione Di vendere il nettare Sarò felice Di acquistarlo A un prezzo superiore A quello Nominale Visto che al momento È molto richiesto È spuntato Roberto E' un po' sporco No sta caricando la texture Ok Sembrava che doveva Farsi la doccia Allora Torniamo qui da lui Lo abbracciamo Vai Vieni Andiamo ad inseguirlo Dobbiamo anche vendere Del nettare Proviamoci Possiamo farci un bel po' Di simoleon Quindi vendere il nettare Oggi cerco di riempire La barra Al massimo E allora Abbiamo un sacco di nettare Che possiamo vendere Mamma mia Quanti simoleon Vendiamo tutto Tanto io Ho un sacco di roba Nella cantinetta Quindi vendiamo tutto Mamma mia Quanti soldi Ragazzi Ora mi faccio ricco Il nettare è perfetto Per delle lag storici Assolutamente sì Mi fate subito Simoleon appalate Ci fermiamo Dai Diecimila simoleon Non vi bastano Va bene Grazie Roberto E allora Blocca la visuale Vieni qui Dobbiamo ancora parlare Intanto parla di sogni Roberto È diventato Buon amico Di Drew Ok Questo ci piace Sono buoni amici Conversazione profonda Ma adesso che siamo Buoni amici Ah ecco È spuntata una nuova cosa Perché adesso siamo Buoni amici Quindi chiedi Della ricetta di famiglia Del nettare Vediamo Sono curiosissimo Chiediamo Qual è il tuo segreto Roberto Gli è piaciuto il segreto? Ce lo sta dicendo Ok Grazie Grazie Sei un amico Vediamo Cosa ci ha detto Ah capisco Ne stai venendo a capo Beh Puoi contare sulla mia fiducia La prossima volta Che produrrai del nettare Provo a usare Il fiore della morte E gli spinaci È un'antica ricetta Di famiglia Consigliata Per la longevità Anche dopo la morte In realtà Posso darti una bottiglia Se vuoi assaggiarlo Ma in futuro Dovrai essere tu A occuparti della produzione Di tanto in tanto Potrai anche avere Degli ingredienti Da darti Ok Ok Quindi possiamo venire da lui Per degli ingredienti Ok Vendi il nettare Chiedi gli ingredienti Del nettare della vita Ah ok Quindi c'è da lui Vediamo Vediamo se ha qualcosa Da darci Hai qualche ingrediente Per caso Un fiore della morte? Sì? Sì Ce l'ha dato Ma certo Appena ha finito Di raccogliere Dei fiori della morte Prendine uno Ah ok Dai È sfizioso Comunque come gameplay L'avevamo già prodotto Il nettare della vitalità Certo ho usato Il debug Però Diciamo che Quello che fa lui È semplicemente Darci degli ingredienti È un modo per avere Gli ingredienti Ma la ricetta La sapevamo già Allora abbiamo Una nuova bottiglia Comunque a questo punto Utilizziamola Vediamo gli effetti Ne abbiamo una in più Vediamo un po' Scende la barra Al minimo Forse Vediamo Vediamo cosa succede Dopo questo Nettare della vitalità Sicuramente I fantasmi Li riporta in vita Ma non abbiamo fantasmi Al momento E a lui invece Cosa è successo Lucidità Post nettare Gli è piaciuto molto Il nettare di mele Che aveva bevuto prima E Forse è aumentato Di un giorno Non ho molto capito Però sicuramente L'effetto si vede di più Su I fantasmi Al momento Così Non si vede molto Roberto Può darci Qualche altra informazione Per caso Torniamo da lui Comunque Il segreto di famiglia L'abbiamo scoperto Quindi Siamo a posto Con Roberto Crinkle Top Chiedi gli ingredienti Vediamo se ne ha altri Ingredienti Vediamo un po' A quanto pare Al momento Solo questo spinaccio Ma posso dartelo Ah ok Ci è dato anche Gli spinaci Perfetto Ne chiediamo un altro Vai Chiedi un altro Hai degli ingredienti Un altro spinaccio Ah ok Perfetto Troppo utile Roberto eh Chiediamo un altro ingrediente Ok Ci dà sempre qualcosa Vedo eh Ci dà sempre Degli spinaci Allora è più difficile Che lui ci dia Dei fiori della morte Ma gli spinaci Ce li dà Tranquillamente Ok Va bene Grazie mille Roberto Crinkle Top Poi è stato troppo carino E quindi abbiamo visto Anche questa dinamica Di questo allevatore misterioso Molto carina Aggiunge un po' di storia All'espansione Anche se devo dire la verità Avrei apprezzato di più Se nel catalogo Dei nettari Non ci fosse già stato Fin dall'inizio Il nettare della vitalità Perché fin dall'inizio C'era questo Nettare speciale Nell'elenco Quindi non è stata Una sorpresa Però sicuramente È utile questa dinamica Per poi produrlo Questo nettare di vitalità Visto che non è semplicissimo E va bene ragazzi Direi che possiamo Tornare a casa Sì dai Torniamo a casa Adesso aspettiamo Che si faccia Orario Quindi aspettiamo Semplicemente il giorno dopo Per fare le ultime Due competizioni equestri Che volevo fare con Kelly E poi Per questa miniserie Abbiamo concluso Eccoci tornati Ma vedo che lei Può già partecipare A una competizione Niente Ogni tanto funziona Questo pannello Ogni tanto no Non ho molto compreso Devo dire Però Posso fare una competizione Va bene E facciamo Una di salto Possiamo provare Vai Tanto per l'aspirazione Dobbiamo solo partecipare Non dobbiamo vincere niente Quindi partecipiamo E niente Abbiamo perso questa volta Quindi nessun premio E allora Direi che possiamo Andare a dormire Aspettiamo che si faccia Il giorno dopo Quindi aspettiamo Che si faccia mattina Per partecipare All'ultima competizione Questre I miei sim Si sono svegliati Quindi è arrivato Il momento Della colazione Vi faccio vedere Qui questo muro Con tutte le targhette Ce ne sono tantissime Mamma mia Abbiamo partecipato A un sacco Di competizioni E adesso Sono le Sette Quindi possiamo Fare l'ultima competizione Che ci serve Per l'aspirazione Allora Possiamo scegliere Solo sole E vabbè Facciamo una competizione Con sole Va bene lo stesso Facciamo questa Dai facciamo la prima Abbiamo perso Ma va bene lo stesso Basta che abbiamo Completato il passo Dell'aspirazione Eccolo qui Così abbiamo un bel po' Di punti vitalizi Magari Concludiamo Tosando per simoleon Questa pecorella E poi Mongendo per simoleon Anche questa capra Nel frattempo La nostra aiutante Nel ranch È uscita con Nina Caliente Sta uscendo con tutto Il quartiere Devo dire Sta uscendo con chiunque Arrivano in continuazione I messaggi Sulle sue relazioni amorose Vabbè Va bene lo stesso Ecco qui Kelly Che sta tosando Per l'ultima volta Nana Ed ecco qui Kelly Che munge Anche la piccola capretta Perfetto A questo punto Basta Sei uscita pure Con Catrina Caliente Ma Tutta la famiglia Caliente Vabbè Dai direi Che per questo Episodio E per questa serie Può essere Veramente tutto Ragazzi Possiamo concludere Qui Mi ritengo soddisfatto Vi ho fatto vedere Un po' di tutto Abbiamo visto Tutte le abilità Abbiamo visto L'abilità di cavalli Tutte le attività Con i cavalli Abbiamo visto Tutto il quartiere Di Chestnut Ridge Con tutti i segreti Quindi il segreto Di Roberto Crinkletop La grotta misteriosa Con tutti quei monstri Da sconfiggere Poi abbiamo visto Ovviamente Tutta la modalità Costruisci Tutto il Crown Sim Abbiamo visto La produzione Di lettere Insomma Direi che possiamo Realmente Concludere Qui La serie Quindi è arrivato Il momento Di tirare Le somme Cosa ne penso Di The Sims 4 Vita nel ranch In generale Credo che The Sims 4 Vita nel ranch Sia una buona Espansione Mi sono divertito Molto Durante questa serie Di gameplay È stato bellissimo Costruire il ranch Ma come ogni pack Ovviamente Vita nel ranch Ha i suoi pregi E ha i suoi difetti Vediamo un pochettino Più nello specifico I pregi e difetti Sicuramente Una cosa che mi ha Particolarmente Impressionato In questo pack È la modalità Costruisci Ci sono dei bellissimi Oggetti Per costruire Ragazzi Mi sono innamorato Del mio ranch Non ho nulla A dire Mi sono davvero divertito Nel costruirlo E anche nell'utilizzarlo Durante la serie Quindi modalità Costruisci Ottima In generale Il crown sim Anche l'ho trovato buono Il crown cavallo Anche molto curato Apprezzato l'aggiunta Della sezione corno Per creare gli unicorni Ma anche tutti gli abitini Per i cavalli Assolutamente bellissimi Un altro grande pregio Dell'espansione È sicuramente Lo scenario Di Chestnut Ridge Che è molto ampio E l'ho trovato Veramente ottimo Per il gameplay Con i cavalli Ci sono anche Svariati ostacoli Per l'abilità di salto Per l'abilità di agita Cosa che secondo me Non è scontata Perché mettere in un lotto Quegli ostacoli È veramente difficile Quindi il fatto Che ci siano questi ostacoli In giro per il quartiere Mi piace Inoltre il quartiere È bello vivo Ci sono un sacco di sim E ci sono anche i cavalli Ovviamente Non abbiamo cavalli selvatici Non mi è capitato Di vederli Però comunque avevamo i sim Che praticavano L'equitazione Inoltre menzione d'onore Alla grotta Del cavallo tenebroso Molto molto carina Come l'aggiunta E anche menzione d'onore A Roberto Crinkletop Che secondo me Ci voleva Ci voleva un personaggio Del genere E per fortuna Ce l'abbiamo Infine Ultimo pregio Di questa espansione Secondo me È il gameplay Non in toto Adesso parliamo anche Di contro Relativi al gameplay Ma per quanto riguarda I cavalli Dove essere sincero È molto soddisfatto Tutta la dinamica Delle competizioni equestri Di come si gestiscono I cavalli Di come Ce ne possiamo Prendere cura Anche tutti gli oggetti Che ci sono Per la stalla Insomma ho trovato Il funzionamento Di cavalli Veramente ottimo Non ho nemmeno Riscontrato particolari Bug Ogni tanto è capitato Quando c'erano Gli spazi stretti Ma diciamo che Questo me l'aspettavo Non mi ha sorpreso Ma è capitato Veramente poche volte Quindi niente di Particolare Da segnalare Per il gameplay Voglio menzionare Però anche la Line Dance Secondo me Una piccola Aggiunta Che però Molto gradita Io sinceramente L'ho gradita parecchio Certo sarà per il tipo Di contenuti Che porto sul canale Però mi è piaciuta E poi carina La produzione di nettare Le mini capre E le mini pecore Però rimango sul carino Mi sono piaciuti Di più i cavalli Adesso passiamo Ai difetti Secondo me Quali sono i più grandi Difetti di questa espansione Un difetto di questa espansione Secondo me È quello di avere Tante piccole aggiunte Tante piccole dinamiche Nuove Però tutte un po' Slegate Potevano essere Implementate meglio Nell'espansione Portate fino in fondo Perché I cavalli Sono portati avanti Molto bene Perché quello È il focus Dell'espansione Ma la produzione di nettare Le mini capre Le mini pecore La lime dance Sembra tutto molto di contorno Capite Non c'è un grande focus Su quelle cose Secondo me Il difetto è questo Ci vuole un legante E questo legante Secondo me Quale poteva essere Il tipo di lotto ranch Secondo me Manca questo Nell'espansione Ci voleva Un nuovo tipo di lotto Voglio darvi qualche spunto Qualche idea E con questo tipo di lotto Intanto Potevamo avere Dei vantaggi Per il ranch E potevamo anche divertirci Di più nel costruire Perché con il tipo di lotto Di solito ci sono dei requisiti Per costruire il lotto E poi Aggiungendo Questo nuovo tipo di lotto Potevamo creare Anche una dinamica Simile a quella Dei ristoranti Delle cliniche veterinarie Quindi con Dei dipendenti Che si possono scegliere Da un menu Con delle divise Con delle attività Da poter fare Con dei clienti Che vengono Quindi abbiamo Degli orari di apertura Del ranch E poi Abbiamo delle recensioni Quindi In questo modo Si sarebbe aggiunta Anche una carriera Attiva Ecco Cosa manca Nell'espansione Una carriera Perché Non viene riconosciuto Questo duro lavoro Dei sim Tramite una carriera Ecco Secondo me Questo manca Secondo me È questo Il legante Che ci voleva Che rendeva L'espansione Perfetta Ma comunque In generale L'espansione Mi è piaciuta Come avete visto All'inizio Ho detto un sacco Di pregi Ma perché vi ho detto Modellità costruisci bella I cavalli Mi sono portati avanti Molto bene Ci sono tante piccole chicche A Cessna Tridge Quindi in generale L'espansione è buona Però volevo anche Sottolineare Che certe dinamiche Potevano essere portate avanti E volevo Insomma Dare degli spunti Per migliorare L'espansione E va bene ragazzi Direi che a questo punto Vi ho detto veramente Tutto quello che volevo dire Sull'espansione Vita nel ranch A questo punto Non posso far altro Che ringraziarvi Per tutto il supporto Ovviamente Questa opportunità Di provare Di sims 4 vita nel ranch È arrivata Grazie anche a tutto Il vostro Supporto Quindi veramente Grazie 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 Un grazie anche All'Electronic Arts Italia Ovviamente Per questa opportunità E adesso Fatemi sapere Voi nei commenti Che cosa ne pensate Di sims 4 vita nel ranch L'avete già acquistata L'avete già provata E va bene Quindi vi invito Ad iscrivervi A lasciare un like E un commento E a seguirmi Su tutti quanti i miei social Vi mando un bacione fortissimo Mi raccomando Aspetto i vostri commenti E ci vediamo Con un prossimo video Prestissimo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi